Esaltando l'essenza della curvatura e della stratificazione, Viraver Technology SRL ha raggiunto i massimi livelli nella produzione di vetri per l'edilizia, portando questo materiale a divenire il protagonista anche negli interni. Un'endotecnica avanzata alla creatività, infatti, è stata in grado di esaltare il vetro in ogni sua forma, con idee sempre nuove.